Salve, buongiorno a Pisto! Benvenuto nel nostro angolo dello spam, na na na, è il momento dei classici annunci estivi. Allora, dovrei iniziare. Innanzitutto sul nostro sito web sono già disponibili le musiche dell'ultimo press, ma è da ascoltarle. Ma passando a cose un po' più serie, secondo avviso sono cambiate le nostre grafiche, i video e anche l'intro. L'avevi notato? Ultimissima news, dal 30 agosto avrà inizio la nostra saga patronale, con musica, animazione, cibi, bevande, tutti da provare. Beh, vi aspettiamo il nostro laboratorio. A presto! Ah sì, non dimenticare di iscrivervi, attivare la campanella del video e se il video è piaciuto mettere un bel like. E vieni a trovarci anche sui altri social.